ciao 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 a tutti ragazzi buoni in questo nuovo video io sono ciao ragazzi io sono dron dron e oggi faremo un bel giretto con le bici in compagnia di dron e questi altri tre stupidi toni 08 chris 04 e valerio uno scambio futuro giocfi è una bellissima roba subito eccoci ritornati guardate un poco cosa vi combina il vostro dron dron aspetta ok ragazzi eccovi ecco a dron dron ecco dron dron all'opera datelo aspetta aspetta vai fallo di nuovo oh la la con queste impennate gomma tozza ci sta un saluto a tutto il pubblico di youtube da questi altri tre imbecilli ecco abbiamo toni 08 abbiamo il futuro giocfi che non so vedi e abbiamo crisi 0 4 ottimo adesso faremo un giro con la telecamera interna un saluto a tutti i ragazzi è uscito nuovo qui bella che non si vede eccolo poi ce ne dobbiamo andare a terra per guardare qui via dove sono andati quegli altri dritti e dritti sia vabbè 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 la playa aspettatemi aspettate dussu dussu buonasera comunque sia il video ragazzi può anche finire qui spero che vi sia piaciuto lasciate un mi piace bella l'abbè vi 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 Grazie a tutti.